Ciao a tutti, mi chiamo Quercelegna, sono una guida escursionistica ambientale. Accompagno gruppi nelle montagne, ma non solo nei parchi, nei boschi, da parecchi anni. Mi piace incuriosire le persone. E con i più piccini, magari sotto forma di gioco, centri estivi, scuole, far conoscere il nostro territorio, la natura, gli animali e tutto quello che circonda, quello che loro sono abituati a vivere. E quindi vieni catapultato in un ambiente totalmente differente, ma che poi è l'ambiente primordiale, quello atavico. Questo momento è sicuramente difficile per tutti, ma ci può permettere di conoscere nuove strade, studiare, pensare a nuovi progetti e non abbandonare quello a cui ognuno di noi crede. Sono sicura che dopo tutto questo periodo di isolamento, le persone siano ancora più invogliate a immergersi nella natura. Condividere le passioni e tutto quello che potremmo incontrare nel nostro cammino, impronta dopo impronta. Adesso mi concentro nel fare la mamma, nel fare la maestra e nel scrivere progetti nuovi. Ciao a tutti, a presto! Grazie! 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 Grazie!